Clippatemelo Clippatemelo Io giuro Sui miei testicoli Io giuro Che oggi non mi darò pace Finchè non mando 10 ticket Al Riot Support Perché solo così fai banare la gente 10 ticket li mando 8 post su Reddit Ora lo cerco Ma dopo quanto vorrei avere davanti Il maestro Blitz tiltava Anche nelle competizioni Ha sempre giocato champ dominanti Il maestro Blitz Non ha bisogno Di giocare champ dominanti Per essere dominante Sono tutti capaci Di giocare i champ dominanti Il vero maestro della dominanza Domina anche senza champ dominante Ma l'ho capito Eh sì L'hai capito invece Io invece potrei chiedere un'altra cosa Ma quando ci sono queste attese Che il buon Xemenos Chiede Che cosa sta accadendo in realtà? Regia Regia Gli alz della Mercedes Che girano nel canale di ESL Ok Non fa vedere bene i macchinoni Ok Ok Però come la vendi male Fazzone Ma scusami Ma è pasta no? Su Fino Non hai fatto che la pena normale Che c'entra Comunque fa con farina no? Farina di sega Nooo Coglione Coglione Scusatemi Ma cosa Contro chi pensi di giocare? Contro chi pensi che What the fuck Questo mi ho sciotto Dai questo è il bestemmia Lui Lui Dai Che tu Porco Dio No 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 Che è impossibile Mi ho mancato La roba Che cazzo si fa Ma sì Devo mutarmi Alla fine io li grabbo Alla fine io li grabbo Come nei film Come nei film I buoni dicono sempre proprio come nei film Arriva il cinchamciuk Arriva Sto arrivando Come nei film Come nei film Come nei film La mia vita è un film La mia vita è un film cazzo Tutti la vorrebbero vivere Tranne io Come nei film 22 Carte vicina Esplodono Esplodono tutti Esplodono tutti Esplodono 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 di viaggiare di più scelto proprio il periodo più sbagliato per viaggiare va che andare in Giappone cerca di vivere più di due anni a printi che sa che non ci vai va che andare in Giappone in Giappone vuoi vedere tutti gli anime con le bambine con le tette enormi bastardo come lo sai c'è tensione comunque in questa stanza tensione evolutiva per me fragono un po' disagio in questi discorsi il fatto che tu sia padre non ti permette di guardarci all'alto verso il basso non mi piace questo atteggiamento al massimo dal basso verso l'asso no 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 l'ammirazione è sdegno e schifo sdegno e schifo no no ti sbaglio capito ma noi e te siamo i giullari di questa stream ma non ce l'avevo levati dai coglioni che kill pure te ma mi ha stoppato l'animazione della Q mi ha stoppato l'animazione della Q ma stai scherzando mi ha delettato l'animazione della Q col flash ragazzi bar per favore porco Dio bar porco Dio cosa pensi di fare cosa pensi di fare dimmelo porco Dio dimmelo porco Dio cosa pensi mmm mmm facciamo i seri ciao bau dieci mesi o come messi ti voglio bene minore di tre ne approfitto per dirvi che oggi le foto piedini di tattico sono in saldo a 80 euro a piede anziché 100 per info direct grazie pipo 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 spidi ah ma oh 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 no la tigre mazzila mazzali questi nemici questi nemici questi nemici che provano a battere e combattere contro la tigre ma la tigre non si arrende non si arrende con la bandiera della Romania